ciao a tutti torna dalla key master prova a continuare la sua corsa verso i 2400 il suo avversario gioca subito i quattro e noi sappiamo già in che modo affrontarlo cerchiamo di vedere il nostro avversario 2171 forse forse ce la potremmo fare ok qui alfiere 3 con h3 diciamo che non credo che il bianco voglia continuare con il solito piano legato all'apertura della colonna h perché questa h3 sarebbe sarebbe una perdita di tempo sostanzialmente qui ci andiamo ad espandere a ovest come di consueto per sviluppare anche l'altro alfiere e premere su e4 cavallo bd7 è un classico in questa variante adesso qui possiamo o spingere subito in c5 o subito in e5 ogni mossa i suoi pro e i suoi contro dunque qui bisogna considerare in ogni caso la possibilità di ma in ogni caso noi proveremo ad aprire la colonna c e quindi piazziamo questa torre in c8 e spingiamo spingiamo ok qui bisogna fare attenzione ok e qui possiamo giocare sia c4 che b4 è scomparso il nostro forte alfiere bisogna valorizzare l'altro come si può fare provando ad aprire la colonna e e quindi prepariamo la spinta in e6 questa donna è fastidiosa perché c'è questa minaccia in h4 già la cosa è decisamente più più tranquilla per la difesa del nero qui spingiamo in e6 cerchiamo un minimo di contro gioco ok qui possiamo riprendere di torre andiamo a difendere il pedone di 6 anche con la donna e liberiamo la strada anche all'altra torre che abbiamo visto in c8 non non ha fatto il lavoro che si sperava è interessante torre 8 triplicare i pezzi insieme al cavallo all'alfiere fa sì che noi attacchiamo ben 5 volte il pedone in a4 il bianco lo attaccava quattro volte e ha dovuto giocare cavallo d2 cavallo d2 e però con c4 allontaniamo il difensore e ne rimarrebbero 1 2 3 e 4 e noi ne avremmo 1 2 3 4 e 5 ma così a spanna c'è anche da dire che poi quel pedone d6 sarebbe debole però il nero potrebbe entrare in settima potrebbe funzionare qui è difeso da 4 ed è attaccato da 5 la prima mossa che mi viene in mente è cavallo per e4 cavallo per alfiere per cavallo per torre per torre per dovrebbe funzionare allora vediamola un attimo visto che abbiamo tempo ed è una fase critica cavallo per cavallo per alfiere per cavallo per torre per torre per donna per donna per torre per torre per d6 e si cambia tutto ed e2 non è accessibile per la presenza dell'alfiere f1 qui possiamo giocarle in un altro modo allora cavallo c5 aumentiamo la pressione contro il povero pedone e4 il bianco si vede costretto a giocare f3 visto che adesso il bianco sembra un po' legato e non sembra che ci siano buone case né per i pezzi minori e neanche per anche i pezzi pesanti per carità io direi a questo punto di provare ad aprire il gioco preparando la spinta in e4 scusate in d5 continuando ad attaccare e4 il discorso è che su e per d5 torre per e1 si guadagna un pezzo facile in caso di spinta possiamo riprendere tranquillamente ne5 secondo me può funzionare visto che il nero ha cercato contro gioco sul pedone in e4 e il bianco si è dovuto difendere un po' passivamente proviamo ad aprire il gioco cercando anche di sfruttare i tre pezzi sulla colonna semi aperta e1 b4 ah da notare anche il tempo 4 minuti per del lachimaster contro 8 per il nostro avversario qui possiamo prendere anche a passant e dopo la presa a passant potremmo anche mangiare in e4 l'altra possibilità è subito d4 però non ne vedo il motivo sinceramente beh in realtà d4 si attaccherebbe questo cavallo e ci andremmo a rifare in c5 quindi in realtà guadagneremo un pedone d4 c per b3 o cavallo d7 d4 io qui sono tentato da questa e poi rifarsi su e4 considerata l'enorme pressione che si che si ha 1 2 3 4 5 6 manca solo il re e attacchiamo tutto ok ok e qui potremmo anche attaccare la torre in e1 col cavallo d3 da notare 3 minuti e 14 contro 8 e 37 il nero per ottenere questa posizione ha dovuto impiegare non poco tempo d'altro canto l'ha portato ad avere un pedone libero in più secco sulla d qui tra l'altro il bianco per liberarsi un po' ha giocato cavallo e4 che ci dà la possibilità credo di continuare a premere su e4 però c'è anche oggettivamente donna c4 perché alfiere per e4 torre 1 f5 però alfiere per e4 cavallo per donna per torre per torre per 3 contro 2 non è facilissimo da un punto di vista pratico secondo me è decisamente meglio una mossa come donna c4 si continua ad attaccare il pedone 4 si difende d3 e si attacca anche il cavallo e adesso qui possiamo mangiare senza colpo ferire in quanto il pedone d3 è difeso dalla donna in c4 che è fortissima ok qui riprendiamo di torre perché di donna cambio di donna riprendo di torre casca d3 e addirittura possiamo anche piazzare una torre in settima sfruttando il pedone d3 adesso i pedoni sono due una possibilità è donna c2 in realtà allora qui diamo scacco e poi possiamo prendere possiamo spingere sì spingiamo eventualmente abbiamo anche torre f2 difesa dalla donna e si continua a difendere il 2 la posizione secondo me qui è tecnicamente vinta per il nero ma due minuti scarsi contro 7 e 41 non c'è stata una gestione ottimale del tempo da parte del nostro avversario a mio avviso il quale si è trovato in difficoltà con tantissimo tempo questo è un errore che anche della teamaster a volte commette adesso per evitarlo a volte si ritrova spesso in zeitnot a ogni modo qui il nero non si può lamentare della posizione raggiunta ok premiamo su g2 allentiamo un attimo la difesa no abbiamo allentato la difesa ci casca subito quello però su torre per abbiamo ok fermi ho appena pensato non ho utilizzato il tempo che aveva a disposizione in maniera adeguata poi non utilizzo troppo utilizziamo nemmeno casca il pedone peccato che la ripresa del pedone fa sì che il bianco lasci totalmente sguarnita la prima traversa e quindi segue ah non è matto ma no ma come sembrava ma ma ok pensavo di dare matto e invece no qui calo di tensione per della teamaster su donna g3 subito torre h1 scacco su g3 possiamo provare donna f1 se l'è cavata benissimo il nostro eroe apertura e medio gioco qualche sbavatura con la torre prima in c8 poi ne 8 però grandissima pressione sui quattro vantaggio che è cresciuto avvicinandosi nel finale due pedoni in più uno è cascato pensava di dare matto matto non c'è però in realtà il recupero di uno dei due pedoni in realtà quello più bello ad un passo dalla promozione ha fatto sì che il bianco si indebolisse sulla prima traversa e quindi uno dei due pedoni sia stato convertito in un attacco diretto contro il re ora su donna g3 donna difesa dal re seguirebbe torre h1 scacco re per h1 forzata donna g3 è un minuto si spera dovrebbe essere sufficiente per vincere la partita l'alternativa qual è g3 sulla spinta di pedone non vedo altre mosse oltre donna g3 che abbiamo visto non funzionare potrebbe essere buona una mossa come donna f1 che minaccia il matto sia attraverso g1 che h1 e lì la difesa oggettivamente non è facilissima credo che non ci sia perché su torre g2 torre h1 matto su donna g3 donna h1 matto non so dopo un attimo di smarrimento a seguito della perdita del pedone d2 e dopo l'esultanza immotivata nel dare scacco nel dare scacco in e1 pensando che fosse matto pensando che la donna nera controllasse h2 invece no però devo dire che nonostante tutto la posizione dovrebbe essere comunque vinta non tanto per il pedone in più se ci fossero solo le torri o solo le donne sarebbe tutt'altro che facilmente vinto soprattutto con poco tempo a disposizione ma con l'azione combinata di donne e torre in teoria ci dovrebbe essere matto o comunque una posizione tale da dare matto giocandosi il finale donna contro torre nel caso in cui il bianco giocasse donna g3 quattro minuti per il nostro avversario cerchiamo di vedere quale mossa giocherà qui sinceramente non so che cosa stia pensando anche perché le mosse non sono tantissime donna g3 oppure f3 e se una non funziona come ad esempio donna g3 tanto vale giocare g3 anche lì con il matto in teoria seguire in pokemon se io sinceramente giocassi con il bianco in questa posizione vedendo il mio avversario con un minuto e 7 senza incremento proverei ad entrare nel finale con donna g3 uno per capire se il nero gioca effettivamente torre h1 che sembra la migliore e due se effettivamente la gioca cercare comunque sia di di creare un muro attraverso torre f2 e torre f3 torre difesa dal pedone la torre difenderebbe anche a3 alla base della catena a3b4 e poi cercare di fare catenaccio oggettivamente è persa qui come prima cosa il nero cercherebbe di crearsi un pedone libero sfruttando la maggioranza 3 contro 2 è vinto ma c'è poco tempo questo sarebbe il primo piano più verosimile da realizzare considerate anche che il bianco ha a che fare in maniera modesta contro un 2313 e quindi un minuto dovrebbe comunque essere sufficiente per vincere un finale di donna contro torre però da un punto di vista pratico mi sembra la scelta migliore g3 donna f1 segue il matto è un minuto è assolutamente più che sufficiente quindi non so non vorrei che il nostro avversario stia impiegando tutto il tempo a disposizione e poi con pochi secondi sull'orologio muova pensando che nel mentre il suo avversario se ne sia andato è un comportamento a mio avviso non molto all'insegna del fireplay purtroppo però confrontandomi con altri amici scacchisti è capitato che talvolta i loro avversari in posizione di netto svantaggio di colpo non muovessero più e aspettassero gli ultimi secondi nella speranza che passando il tratto all'avversario questi nel mentre magari si allontanava dalla scacchiera e perdesse a sua volta per il tempo rimane un minuto e trenta al conduttore dei pezzi bianchi il quale magari non sta più muovendo per mille motivi io lascio sempre il beneficio del dubbio ci mancherebbe andiamo a vedere se in questa posizione ci sarà ancora una mossa del nostro avversario oppure semplicemente la partita finirà per tempo scaduto per il bianco se così fosse contro un 2170 penso che almeno quattro punti si possano guadagnare e così saremo ancora più lanciati verso i 2400 non più 300 ma 400 vado a memoria il rating massimo raggiunto da The Lucky Master nel gioco Rapid è di 2315 vincendo questa partita in teoria secondo me dovrebbe ottenere un nuovo Guinness World Record almeno per lui ci mancherebbe 24 secondi credo che la partita ormai stia volgendo al termine peccato mi sarebbe piaciuto comunque sia vedere quantomeno la scelta del conduttore dei bianchi in realtà credo che sia una scelta che non andremo a vedere perché non è più connesso e quindi ormai aspettiamo il bottino di punti che ammonta a quattro punti ad occhio avevo visto bene con questa partita arriviamo a 2317 spero che la partita vi sia piaciuta c'è stata qualche sbavatura nel medio gioco in particolare quella torre c8 poi andata in e8 perdita del pedone a cui poi pensavo di dare matto quando non c'era in realtà approfondendo l'analisi si vedeva che comunque la posizione non era vinta spero che la partita vi sia piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e che dire è stato un pleasure e alla prossima tantissime belle cose che si vedeva che